Maria Teresa Ruta, ospite di Radio Radio, ha parlato lungamente degli ex coinquilini del grande fratello VIP. Prima di Tommaso Zorzi, poi della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, e infine, ha svelato il suo punto di vista su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Di Rosalinda e Zenga penso che Rosi sia stata un po' criticata sui social, ma se non fosse stato un affetto profondo lei non avrebbe mai fatto questo passo. È una ragazza seria e pacata, pensa tanto, si mette sempre in dubbio. Complice il fatto che cinque mesi senza affetto è stata non dura ma di più. Eravamo alla frutta, ai minimi termini, ci attaccavamo a qualsiasi cosa. Complice questa grande solitudine. Andrea è il ragazzo per lei, tranquillo, semplice e introverso. Non so quanto durerà, dobbiamo domandarlo non tanto ad Andrea Zenga che ha detto subito che era il suo tipo, ma a Rosalinda che è una donna che ha sofferto molto dalla vita e che si fa prendere da ansia e paure. Lontano dalle telecamere si vivono sicuramente molto bene. Voi cosa ne pensate?